Siamo con Stefano Filipponi, curatore del Museo degli Innocenti. Dottor Filipponi, questa istituzione è particolarissima, nasce a metà del Quattrocento per uno scopo molto specifico. Ce ne può raccontare brevemente la storia? L'Istituto degli Innocenti è un'istituzione unica nel suo genere. È stato fondato all'inizio del Quattrocento con una funzione non immaginata prima, quella di ospitare i bambini abbandonati in un luogo dedicato a loro. Per svolgere questa funzione, cosa molto importante, è stato chiamato un architetto di grandissima importanza del rinascimento italiano, Filippo Brunelleschi, che ha creato un luogo bellissimo, pensato proprio per dare una casa a questi bambini. Nel corso del tempo poi l'istituzione ha continuato a occuparsi di bambini, a fare assistenza ai bambini abbandonati e poi piano piano anche ai bambini che avevano visione di servizi educativi o di attività, quindi a occuparsi di bambini e di tucur, non solo di quelli in difficoltà. Ancora oggi è un luogo che ospita delle scuole, ha dei servizi educativi per l'infanzia, ha dei centri di ricerca e ora ha anche un museo che per la prima volta racconta in modo completo la storia degli innocenti. Nei secoli l'istituzione si è anche però arricchita di una grande collezione d'arte, in parte commissionata ai maestri, in parte anche per donazioni. Ci può raccontare qualche perla della vostra importante galleria? Allora, è importante sapere che questo luogo aveva la vocazione alla bellezza già nella fondazione, il progetto di Brunelleschi, ma anche la committenza di opere importanti non solo per i luoghi di rappresentanza, quindi per la chiesa, per i luoghi aperti al pubblico, ma anche per gli ambienti di vita dei bambini e delle bambine. Questo era un elemento importante perché le opere venivano ritenute uno strumento in qualche modo per educare, per dare conforto e così ci sono state le committenze di opere molto importanti, Luca della Robbia, Andrea della Robbia ha lavorato per noi, Ghirlandaio che ha realizzato un'opera fondamentale per la chiesa principale dell'istituzione e anche artisti meno conosciuti hanno però lavorato qui aggiungendo un piccolo pezzo a questo patrimonio. Poi molte opere sono arrivate agli innocenti attraverso l'assorbimento di altri detti assistenziali, quindi nel museo esponiamo anche dei pezzi realizzati prima della fondazione dell'ospedale, provenienti appunto da queste altre istituzioni. Lei prima ha accennato al fatto che ancora oggi il vostro istituto si occupa di infanzia, ma anche il museo è molto attento a questa categoria di visitatori. Cosa offrite ai più piccoli? Allora il primo atto del progetto del nuovo museo è stata l'apertura del servizio educativo. Noi prima ancora di mettere mano al vecchio allestimento abbiamo realizzato un luogo che si chiama la bottega dei ragazzi, che offre attività educative per bambini, famiglie, classi e che ospita ogni anno migliaia di bambini che vengono da noi. In più dentro il museo ci sono una serie di strumenti di comunicazione pensati apposta per bambini, quindi ci sono didascalie specifiche, c'è un percorso audio specifico e per dicembre quando ci sarà il completamento del museo avremo anche proprio un kit di esplorazione del luogo pensato per bambini e famiglie. Grazie infinite.